Riccardo Moretti, campione italiano 2009, bentornato al CIV e soprattutto con la Rumi, un marchio storico Sì, stiamo cercando di fare, insomma, di difenderci contro l'ormai storica Priglia C'è un po' da lavorare, però la squadra è ben intenzionata Logicamente ci vuole un pochino di tempo, perché abbiamo iniziato un pochino tardi Però ce la mettiamo tutta, è meglio che stare a casa a guardare gli altri Dall'Apriglia con la quale hai vinto il titolo, sei arrivato su questa Rumi, che è una moto artigianale Quali sono le differenze principali? Ma diciamo che qui abbiamo vinto sia con l'Onde che con l'Apriglia Sarebbe una figata vincere anche con la Rumi, però per come sono andate le cose è un pochino difficile Però la differenza è molta da questa moto qui, è artigianale, però la squadra, parlo con la gente che l'ha costruita Quindi insieme riusciamo a fare un bel lavoro Logicamente non è facile, perché da là la Z è fatta da loro E quindi non è che abbiamo un telaio Rumi e una moto Apriglia Telaio Rumi, moto Rumi, tutto Rumi, quindi ci vuole un bel coraggio Però ci vuole anche un pochino di tempo per sistemarci Adesso vediamo di farlo il prima possibile, io ce la metto tutta E la squadra mi sta supportando per farlo Quindi speriamo di fare presto, perché mi sono stancato di vedere gli altri che sono davanti Grazie